Buongiorno, benvenuti a questa domenica 26 novembre, vediamo quali sono i temi di oggi sui principali quotidiani italiani e soprattutto le cose che ci interessano a noi. Allora, il Corriere della Sera, Repubblica e un po' tutti i giornali, a parte la stampa che ha fatto una imbarazzante copertina con l'intervento di Paolo Gentiloni, una cosa che penso, immagino, che leggeranno 4-5 persone, comprese quelle dell'ufficio stampa di Palazzo Chigi, se di domenica sono al lavoro, ma a parte queste amenità, la giornata oggi si contraddistingue per la grande battaglia per la parità uomo-donna. Siamo fenomenali nel considerare questa battaglia parole un elemento importante della nostra società e i titoli dei giornali sono incredibili. Mi divertono molto anche quei giornalisti che con vigore dicono, forza maschietti, perché sempre maschietti non dovete più molestare le donne e io sono al corrente di tante mie amiche che invece nei giornali ogni giorno vengono molestate, non molestate, c'è quel piccolo subdolo abuso di potere per il quale, insomma, se gliela danno è meglio, molto diplomaticamente questo è quello che avviene. Anche nei grandi quotidiani, Corriere della Sera, Repubblica, dove donne e uomini sempre fanno questa specie di enorme bolla di ipocrisia per cui combattiamo contro le molestie, che sono sempre quelle degli altri, quando le facciamo noi non sono molesti, sono scherzi, sono goliardate, quando le fanno gli altri sono molesti, per cui ci vogliono grandissime pene. Sono ovviamente impressionato poi dal linguaggio di Macron, perché se c'è uno che mi posso permettere di dire perché non vede questa zuppa di porro che proprio mi dà l'idea della cretinaggine globale, ma etero diretto da sua moglie è riuscito a diventare presidente della Repubblica francese, ma che proprio mi dà l'idea di quello che dice sempre le cose giuste al momento giusto. Avete presente nei salotti che c'è sempre lo stronzo che dice la cosa giusta, che piace alle persone, sempre politicamente corretta, sempre la mano sul cuore, bisognerebbe aiutarli? Ecco, questo è Macron. Macron che cosa vuole mettere per combattere la differenza tra uomini e donne? Il delitto di oltraggio sessista. Il delitto di oltraggio sessista. Quindi se io vado per strada e a una gli faccio un fischio, che è una cosa tremenda fare un fischio a una donna, ovviamente non lo fa più nessuno perché si tratta della commedia all'italiana, quello può essere oltraggio sessista con i tribunali francesi che si occuperanno del fatto che le avances, che è una parola francese che noi tutti sappiamo usare in italiano, le avances possono diventare oltraggio sessista. Poi vado a vedere nel discorso di Macron il suo incipit favoloso, ricordando nomi e cognomi delle donne uccise dai propri ex fidanzati. Sapete quante sono in Francia? Sono state nel 2016 123. Allora, ognuna di queste donne è vittima di un abominio, ognuna è vittima di un delitto straordinario che deve essere colpito. Ma come tutti gli omicidi? 123? Ma di che stiamo parlando? 123 uccise dai propri mariti o dai propri ex compagni? È tantissimo, ma non è l'emergenza per cui dobbiamo inventarci il delitto di oltraggio? Silvia, non hanno depenalizzato lo stalking a metà giugno, non è esattamente così. Sergio Urbano non vali un decimo di Piff, buffone, introduce il secondo tema straordinario della giornata. Leggiamo l'intervista di Piff. Io sono un buffone, Piff è uno che ha fatto le grandi campagne contro la mafia, doveva condurre tutti i programmi di Rai 3, l'uomo che dice sempre la cosa giusta al momento giusto, qualche volta lo fa anche da falconieri, noto negozio di moda. Piff che cosa dice? Gli chiedono ma come mai quest'anno non sei alla Leopolda, Piff, posto che tu sei sempre stato alla Leopolda, con Brizzi, con la Ercolani, con tutto il giro della Leopolda, del primo renzismo. Ma un tempo aveva senso, dice Piff, oggi no, sotto il titolo mio. Oggi Renzi è sfigato, ieri era candidato a diventare presidente del Consiglio ed era presidente del Consiglio, oggi è caduto nella polvere quindi oggi non ha più senso. Ma ovviamente io penso male perché Piff invece è un uomo tutto d'un pezzo. Ma come mai ci andavi, visto che nel passato non puoi negare di essere uno di quelli che andava alla Leopolda? Vedevo una possibilità di intesa tra Grillo e Renzi, vi giuro. Vedevo una possibilità di intesa tra Grillo e Renzi e in tre anni non hai avuto qualche piccolo sentore prima che cadesse Renzi che oggi non contasse nulla per il motivo per il quale non vai alla Leopolda? In tre anni non ti sei accorto che Renzi e Grillo proprio non potevano parlarsi? Non ti sei accorto di uno streaming che è andato a puttana e molto peggio di quello di Bersani? Non ti sei accorto che il vero nemico di Renzi o di Grillo erano esattamente Movimento 5 Stelle? Di queste cose non ti sei accorto? Te ne sei accorto oggi quando Renzi non conta più, quando Campo dell'Orto, ho detto il Conte Mascetti non è più direttore generale della Rai, contro della Tana non è la più della direttrice di Rai 2, quando la Bignardi non è più a Rai 3, quando tutto quel mondo renziano si sta sfaldando, oggi Piff non partecipa alla Leopolda, sapete perché? Perché non c'è dialogo tra Renzi e Grillo. Ma io dico, ma c'è qualcuno che ci crede? Io dico, c'è qualcuno che ci crede? Di le cose come stanno, di le cose come stanno, non lo so, forse glieli dirà falconieri. Renzi non deve stare con Verdini e Alfano, aggiunge Piff, è una posizione che molta parte della sinistra del PD dice, una cosa che dice MDP, una cosa che dice D'Alema, una cosa che dice Bersani, ma ci ha fatto un governo per tre anni e in quei tre anni tu stavi alle Leopolde. No, scusami, oggi te ne accorgi? Oggi che non è più al governo e che non è detto neanche che faccia un'alleanza, ma quando era al governo si poteva stare? Ma io la trovo fantastica. Il fatto consiglia oggi Fazio, nemico del fatto, Fazio è il conduttore passato da R3 a R1, un pif che ce l'ha fatta, e Fazio dovrebbe chiedere oggi stasera a Berlusconi dei tre processi in corso, sono fissati, cioè processo per strage, la terza volta che lo indagano per processo per strage di via da meglio e queste devono essere le domande fondamentali su cui dovrebbe incalzare Fazio e Berlusconi. Si è visto come Santoro e il pifferaio e lo strillone del Movimento 5 Stelle incalzarono Berlusconi quando avevano un loro programma di grande successo che era quello di Santoro. Mi ricordo di quella puntata, loro consigliano a Fazio cosa fare, ma io mi ricordo di quella puntata che Berlusconi gli spolverò la sedia. Sulle fake news si interrogano a tutti, state attenti alle fake news, dicono che Grillini e Movimento 5 Stelle avrebbero gli stessi indirizzi su Google, ma attenzione perché il rischio sulle fake news che ci sono e esistono e sono pericolose è che combattere le fake news diventa un problema, perché veramente volete affidare a Facebook la scelta delle notizie che non sono fake? Veramente volete dare a un'autority italiana controllata dai partiti, dal Parlamento, da chi vi pare a voi quali sono le vere notizie, le false notizie? Orrore delle fake news, ma attenzione perché quella foto su cui tutti si sono indignati in cui al funerale di Rina avrebbero partecipato Boldrini e la Boschi fatta circolare dai siti del Movimento 5 Stelle è una fake news ed è anche facilmente smentibile e comunque sia la sua viralità è stata un danno per Boldrini e per Boschi, forse sì, ma chi veramente pensa che quelle due persone abbiano partecipato al funerale di Rina hanno un cervello di tale dimensione, vogliono informarsi talmente poco sulla rete che alla fine il censura verticistica contro le fake news rischia di essere molto peggio della malattia che vogliono curare. Però che vi voglio dire? Vedrete che la prossima battaglia dopo la parità dei sessi, cosa buona e giusta, sarà la battaglia delle fake news, cosa buona e giusta e ci troveremo sempre in questa grande melassa di ipocrisia in cui Piff ci spiegherà come dovremo comportarci. Ciao e ricordatevi, ricordatevi, me l'ha ricordato uno di voi, che questo video condividetelo! Più lo condividete e più oltre a rendere diffuso il nostro pensiero, il mio pensiero è la zuppa di porro e più fregheremo chi ci vuole confinare ai pochi limiti dell'informazione diciamo fuori dai canoni. Ciao, condivisione del video, ciao!